Ciao a tutti ragazzi da TFG on Demand e faccio questo brevissimo video per informarvi che domani alle 15 o alle 16 quindi sabato 20 febbraio ci sarà lo streaming nostro su questo canale per informarvi sull'annuncio del nostro nuovo server di Minecraft quello che sarà pubblico, attenzione, non il nostro server dove giochiamo solo ierinegan ma proprio un server pubblico creato ad hoc con delle mappe eccetera eccetera con delle modalità, varie modalità di gioco renderemo pubblico domani l'IP del server, lo streaming lo faremo verso le 3 o le 4 del pomeriggio comunque quando noi annunciamo lo streaming sapete che vi arriva la mail che vi indica che noi stiamo streammando pertanto inizieremo lo streaming magari alle 1 e mezzo, alle 2 in modo che voi avviate il tempo di connettervi così alle 3 o alle 4 poi inizia lo streaming vero e proprio e quello che volevo dirvi è che avrete quindi la possibilità di entrare nel nostro server e giocare con noi ovviamente non posso essere su TeamSpeak questa volta perché se devo streammare non posso parlare con voi però il server di Minecraft dopo 10-15 minuti che aspettiamo la gente che si connetta allo streaming renderemo pubblico quindi metteremo in descrizione l'IP del server e voi potrete entrare a giocare con noi attenzione il server dovrebbe supportare sulle 1000-1500 persone quindi parecchie e nel caso in cui ci fossero problemi sappiamo già come risolvere perché sapete che c'è magari sempre qualcuno che vuole rompere le scatole comunque ragazzi domani ore 15 o ore 16 ci sarà lo streaming io spero che voi ci siete in tanti e dopo 10-15 minuti che è iniziato lo streaming renderemo pubblico il server di Minecraft mi raccomando siate in tanti usate questo breve video ma era un annuncio giusto per informarvi di questa cosa non c'era nient'altro quindi io vi aspetto domani per lo streaming e per il server di Minecraft ciao ragazzi